Ciao, ti va di leccarmi tutto? Allora ci vediamo al festival, il re del gelato artigiano. Mi troverai insieme ai miei fratellini frullati, frappe, torte, spremute, granite. Siamo tutti genuini e prodotti artigianalmente. E c'è la lina ipocalorica per diabetici. Rilassati con un bel gelatore, come me. Rilassati con un bel gelatore.